Sono stati trovati e abbandonati nei pressi di Molimbianco ed adesso questi otto dolcissimi cuccioli cercano una famiglia che possa prendersi cura di loro. La segnalazione è arrivata agli operatori dell'EMPA che sono subito a corsi sul posto, hanno così trovato e salvato i cuccioli. Hanno chiamato i miei colleghi a Molimbianco che c'era questa cucciolata che girellavano nel solito posto, che ha chiamato appurato che lì non c'era nessuno, non c'era la mamma e niente, siamo intervenuti, abbiamo fatto un giro ma nessuno purtroppo l'ha reclamato, è sembrato appunto fatta apposta in un luogo discretamente sicuro. I cagnolini che hanno circa due mesi sono stati portati in Canile dove sono stati visitati e adesso sono pronti per essere adottati. Sono meticci segugi, vengono una taglia media, forse media abbondante, sono cani generalmente molto affettosi con le persone che non hanno grossi problemi però che hanno bisogno di tanto movimento e di dedicargli il tempo giusto, non solo un giardino perché sono cani da seguita quindi hanno bisogno proprio di esplorare, di fare lunghe passeggiate. Non solo cagnolini, al Canile Comunale sono arrivati anche dei cuccioli di gatto in cerca di famiglia. Sono stati trovati ad Agazzi in un campo, non si sa bene in realtà le parentele perché pensavamo fossero una mamma con quattro gattini già grandini, in realtà no, sono due fratellini neri di circa tre mesi e mezzo, più maschietti, più c'è un altro maschio rosso di quattro mesi e due femmine di sette, otto mesi, una bianca e nera e un'altra tigrata. Cerchiamo adozione per loro, ora ovviamente tutti cercano il gattino piccolo, abbiamo gattini piccoli ma sono ancora troppo piccoli, sono con le mamme che le stanno allattando e quindi sarebbe bello trovare una casa anche a loro più grandicelli per non farli crescere qui.